Ciao a tutti! Come sapete in questo periodo avremmo dovuto trovarci per festeggiare insieme la Sagra della Madonna del Carmine con il tradizionale palio delle Contrale. Purtroppo, come ben sappiamo, questo non sarà possibile, ma vi chiediamo comunque di addobbare le vostre case, le vostre vie con dei piocchi delle Ghirlande che oggi vi insegneremo a fare. E in estate ci saranno le forbidi, i biananti colorati, con la propria contada. Inoltre ci serviranno le campionatrici e le pubbine per le mie cittadini. Perfetto in un piatto. Prenderemo il nastro e tagliarlo in tre signifle della stessa misura, piegarli su se stesso con due lenghi e pinzarli insieme. Quando lo avrete fatto con tutti e tre i nastri della stessa lunghezza, li metterete uno sopra l'altro e li pinzerete assieme. Dopo farete la stessa cosa con dei nastri un pochettino più piccoli e quando avrete questa mini coccarda l'attaccherete alla coccarda precedente più grossa. così andando avanti fino a che non arriverete a poterne fatte due mini coccarda attacchetti insieme all'ultima parte in cui prenderete soltanto due nastri, molto piccoli saranno, metterete come prima i pinzerete su se stessi con i due lenghi e li attaccherete su loro due. Successivamente, se lo volete rendere ancora più bello, come ha fatto la nostra ceci, basta soltanto dividere a metà i lenghi. Per fare le catene serviranno delle strisce di nasso colorato che dovranno essere più o meno della stessa lunghezza. dovranno essere poi piegati per fermare dei cilindri che andranno inseriti l'uno nell'altro e chiusi con la graffetta precedente. Grazie a tutti. Ecco i nostri risultati, mi raccomando prendeteli sulle cancellate le vostre case, vado in possibile e gli animatori passeranno nelle vostre vie e li giudicheranno io mi troppo. Se non sapete il colore della vostra coltrata, alla fine ci sarà un elenco delle vie in quei rispettivi colori. Ciao! 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 Ciao!